Vorrei salutare i telespettatori, tutti gli ascoltatori della trasmissione del critico d'arte Giorgio Grasso, lo ringrazio per questa intervista, mi presento subito, sono Gaetano Porcasi, un pittore di impegno civile. Nella mia pittura racconto la storia, i miei pennelli sono diventate delle penne e le tele sono dei fogli dove scrivo, narro la storia di questo paese. Ho raccontato circa 160 anni di storia e questa storia l'ho decodificata attraverso la pittura. La mia pittura si divide in due momenti, abbiamo l'aspetto contenutistico e l'aspetto tecnico, l'aspetto dei contenuti, faccio la ricerca, cerco di capire la storia e poi questa storia dopo un lungo approfondimento la dipingo e la racconto facendo diventare immagine. Poi c'è l'aspetto tecnico, l'aspetto tecnico, la mia pittura la possiamo paragonare un po' a quel neorealismo, alla pittura messicana, alla pittura russa, anche alla pittura degli anni 60, un po' la pop art ricorda per certi versi. È una pittura illustrativa che manifesta la negazione contro le violenze, manifesta tutto ciò che riguarda la brutalità e non è una pittura retorica. Nella mia pittura non voglio raccontare...